Il surriscaldamento di una canna fumaria all'origine dell'incendio che ieri sera ha distrutto parzialmente a Villa Montagna, sulla collina di Trento, la casa dell'avvocato Michele Guerra. Nessun ferito ma sono bruciati 30 metri quadrati del tetto. Sul posto i vigili del fuoco permanenti di Trento e i volontari di Civezzano e di Cognola. Grazie a tutti. Grazie a tutti.